Amici di SpagnoloRapido.it, che tal, come stai? Qui siamo con l'ultima videotapa sulle pronunciazioni e ortografia basica dell'espanol e oggi insieme vedremo i fenomeni del seseo, feceo e dello yeismo. Differenze importanti nella pronuncia dello spagnolo regionale e dello spagnolo colloquiale e infine chiudiamo il nostro viaggio nella pronuncia spagnola andando a vedere nello specifico tutte le lettere dell'alfabeto e ripassando con l'occasione alcuni concetti visti nei precedenti video. De acuerdo? Pues vamos allá! Dunque iniziamo da questo fenomeno conosciuto come seseo, un fenomeno fonetico che fa sì che questa stessa frase possa essere pronunciata in due modi diversi, ovvero, variante 1, il cielo es azul. Invece nella variante 2 diremo, il cielo es azul. Qual è la differenza? Il cielo es azul, stiamo usando il suono S. Il cielo es azul, stiamo usando il suono S. Proviamo con un'altra frase e vediamo qual è il risultato. Variante 1, hoy hace calor. Variante 2, hoy hace calor. Anche in questo caso abbiamo sentito come hace può essere pronunciato con la T o con la S. Dunque questo fenomeno in realtà ci è già noto. Ad esempio prendiamo in considerazione la famosissima canzone Despacito. Sicuramente avete notato che il cantante Fonsi non dice Despacito ma dice Despacito. Infatti Fonsi che è del Porto Rico non pronuncia la T ma sostituisce questo suono tipico della penisola iberica con la S. E questo è il fenomeno che si chiama Seseo. Alcuni di voi si chiederanno ma qual è la pronuncia giusta? Despacito o Despacito? Ebbene prima di rispondere a questa domanda bisogna dire che lo spagnolo è parlato nel mondo da 470 milioni di hispanoablantes. Quindi di persone che parlano lo spagnolo come lingua madre. E di questi 470 milioni solamente 40 milioni usano la F. Quindi non si può dire che il Seseo sia sbagliato. Infatti è accettato dalla norma linguistica anche se originariamente e tuttora nella penisola iberica il suono TH che corrisponde come abbiamo visto a volte alla C e a volte alla Z era considerata l'unica variante corretta. Nello specifico il Seseo è diffuso soprattutto nell'Andalusia, in las Islas Canarias e in Latinoamerica. Però attenzion perché qui molti di voi diranno beh allora visto che è difficile fare la TH pronuncio sempre con la S. Non ve lo consiglio perché leggiamo queste due frasi. Che differenza hai entre unos huevos cocidos e unos huevos cocidos? Dunque se io Seseo nessuna differenza perché questi sono huevos cocidos e questi anche sono cocidos. Però la differenza esiste e è che il huevo cocido del verbo cocer sono delle uova in padella. Mientras che los huevos cocidos del verbo cocer verrebbero essere delle uova cucite. E questo per farvi capire che in realtà la distinzione TH-S è conveniente anche perché una volta imparata possiamo eventualmente decidere di Sesear e quindi di non pronunciare la Z. Mentre se non impariamo subito il suono TH ci sarà difficilissimo più avanti abituarci ad usarlo. Muy bien, hemos visto el Seseo, ahora vemos el Ceseo. ¿Qué es el Ceseo? El Ceseo a differenza del Ceseo se considera un fenomeno dialectal. Portanto, poco prestigioso e usato per persone di bajo nivel cultural, quindi di scarsa cultura. E che consiste in questo fenomeno? A differenza del Ceseo che pronuncia solamente il sonido S e non il sonido TH, il Ceseo sostituisce tutte le S con il sonido TH. Il risultato è che, per esempio, questa frase si pronunciaria Ci potremmo trovare anche con una persona che ci vuole dire Certo che sì e ci dice Seguro che sì. Ora, io capisco che questa pronuncia può fare un po' ridere ma vi assicuro che in diverse zone della Spagna è una pronuncia normale anche se, come vi dicevo, suona un po' poco fine. E quindi, cuidado, perché anche il Ceseo può dare l'ocche a dei malintesi. Per esempio, una persona che cesea può dire «me voy di cazare» e una persona può dire che questa persona, in lugar di essere salendo di casa, sta andando a cazare. Questo tipo di malintesi, come ben entendo, è meglio evitare. Terminiamo con il Ceseo dicendo che è un fenomeno che troviamo quasi solo in alcune zone di Andaluccia. Molto bene, passiamo al Ieismo. Che è il Ieismo? È il fenomeno che fa che la doble L, come la parola pollo, si pronuncia Y tal come la Y in la parola rei. E questa coincidencia tra i due soni sono, è qualcosa molto molto accettato in tutta la popolazione hispanohablante. Excepto in due zone. Una è argentina, soprattutto in la zona rioplatense del rio della Plata, portanto la capital, Buenos Aires, dove questa doble L si pronuncia «sh». Portanto, questa è una paella. e anche a Cataluña, dove il sonido doble L corrisponde al italiano «ll». E il risultato è che questa parola, secondo un catalan, si potrebbe pronunciare «paella», con la «ll» che noi abbiamo in «familia». Lo stesso passa, per esempio, con la parola «caballo», che in Buenos Aires sarà «caballo», mentre che in dei paesi catalanohablanti può sonare «caballo». Estupendo. Vamos ahora a descubrir algunas peculiaridades del español regional y coloquial, come, per esempio, la típica relajazione, un rilassamento del sonido «j» che troviamo, soprattutto, in Canarias e Andalucía. Per esempio, la parola «lagartija» si pronuncia in queste zone «lagartija». Quindi niente «j», ma piuttosto «j». «lagartija». Otro fenomeno molto interessante, soprattutto proprio della lingua parlata, è la «elisione» della parte final di alcune parole. Per esempio, la parola «ciudad» è molto comune che, parlando, si pronuncia «ciudad». Al stesso tempo, «gracias» può experimentare una «elisione» della «s» final e, a menudo, molto spesso si pronuncia solamente «gracia». También es bastante normal en la lingua coloquial no pronunciar esta «de», por ejemplo, cuando decimos «sonostanco», en lugar de decir «estoy cansado», en la lingua oral es normal oír decir «estoy cansado». Estupendo, pues vamos terminando. Ahora cerramos el círculo «quiudiamo il cerchio» con el alfabeto español muy rápidamente repasando los sonidos. Muy bien, empezamos. A como árbol, B como beso, C como cesta, D como disciplina, E como España, F de fijar, G de gente, H como en horno, I de idea, J como en la palabra mejor, K como kilogramo, L de lagartija, M de maligno, N de nudo, Ñ como en niño, O de ojo, P de pollo, Q como en queso, R de rio, S de sello, T como en trabajo, U de ungüento, V como en vela, W como wifi, X como tóxico, Y como en yacimiento, y Z como en la palabra zumo. Pues ya está chicos, hemos terminado. Vi ringrazio per aver seguito fino a qua questi video tapas dove abbiamo imparato a pronunciare e a leggere qualsiasi parola spagnola e anche abbiamo approfondito qualche variante e particolarità che ci può tornare utile mano a mano che perfezioniamo e approfondiamo lo studio dello spagnolo. Ora non resta che fare molta pratica ed esercitarvi finché non vi sentirete molto sicuri sull'argomento. Bien, da andreradispagnolarapido.it per oggi è tutto, vi saluto con un caloroso abbraccio, hasta pronto, adiós.